Buongiorno a tutti, un pensiero a mister Mondonico, sicuramente una grande perdita per il nostro calcio, una perdita per un grandissimo uomo, molto simile al mio modo di fare e volevo l'ultimo saluto ed è stato un grande Grazie, possiamo iniziare Alessandro Bianchi Buongiorno intanto l'ultima conferenza si parlava di una squadra che cominciava dopo un ciclo di tante partite consecutive a sentire anche la stanchezza e quindi si parlava di una sosta che poteva servire a recuperare le energie, tanti giocatori però in nazionale da questo punto di vista delle energie recuperate anche in base a come ha visto i ragazzi come sta la squadra prima di una partita che si prospetta evidentemente difficile e importante Spero che stia bene, di là dello spero sappiamo che no, anche chi è andato in nazionale sono arrivati con una mente più fresca tanti giocatori ho visto con facce rilassate devo dire che gli ultimi due o tre giorni ho visto i giocatori con una buona gamba, con una grandissima voglia di fare questa partita qualcuno ha giocato meno, qualcuno ha giocato un po' di più però ci voleva la sosta, ci volevano queste due settimane e speriamo di fare il rush finale come abbiamo fatto in questi gli ultimi tre mesi l'ultima volta che il Milan ha vinto il campionato in casa della Juventus Terreno Gattuso era in campo segna anche il gol decisivo da lì poi è nato questo periodo con lo Juventus Stadium noi dobbiamo pensare a domani noi dobbiamo pensare a domani perché se andiamo a vedere i numeri non c'è partita non c'è storia noi dobbiamo preparare la partita sappiamo che affrontiamo una grandissima squadra perché da sei anni che è imbattibile e dobbiamo prepararla bene sappiamo che è una partita difficile io penso che domani noi faremo una grandissima partita però lo sappiamo che è difficile i numeri bisogna mettere da parte dobbiamo pensare solo i 95 minuti domani e fare di tutto per riuscire a fare una buona partita e di mettere in difficoltà la Juventus Lei ha spesso parlato del corso del Confessore Sampa dell'asticella che si doveva alzare su cosa ha chiesto in particolare in questi ultimi giorni alla squadra di alzare l'asticella Noi siamo una squadra in questo momento che dobbiamo giocare da squadra perché anche ho visto tanti titoli sui giornali oggi che mi viene da sorridere qualcuno di voi forse ci ha pure giocato ma sentire i giocatori domani faccio due gol domani ne faccio tre ne faccio uno ne faccio due questo chiacchiere da bar lo so che qualcuno ci sta fa parte del gioco fare dei titoli dopo i titoli non li fa chi scrive i pezzi ma li fa la redazione ma queste cose non mi piacciono noi dobbiamo pensare a fare robe da squadra perché dopo i singoli giocatori qualche volta dopo far vincere qualche partita noi dobbiamo giocare da squadra da squadra ben messa in campo con grande spirito con grande senso di appartenenza e oggi sicuramente non mi sono piaciute tutte queste queste frasi queste parole scritte ho visto troppe cose un po' strane perché noi non siamo questi noi dobbiamo giocare il cortello fra i denti rispettare l'avversario perché sono nettamente più fuori di noi dobbiamo giocare con grandissima umiltà Rino buongiorno domani esame scritto contro la Juventus mercoledì esame orale contro l'Inter la scolaresca è pronta a livello tactico tecnico fisico e soprattutto di personalità avete studiato bene queste settimane sei andato su un campo che avevo grandissime difficoltà sei andato sul campo della scuola che non avevo un grandissimo rapporto no al di là delle battute penso che in questo momento dobbiamo pensare a partita con la Juve la partita di domani dopo penseremo al derby dopo questa è una partita sia noi che la Juve ci giochiamo tanto noi è sempre il solito discorso che faccio noi non possiamo sbagliare e penso che anche anche la Juve se vai a vedere due settimane fa la Juve poteva andare più sette e domani forse non forse Napoli gioca prima della Juve capisci? in questo momento noi ci stiamo giocando qualcosa di importante che fino a pochi mesi fa era impensabile e abbiamo piccole speranze dobbiamo continuare a crederci però ci vogliono ci vogliono grande prestazione loro si stanno giocando per questo è il settimo anno che si giocano si giocano lo scudetto lo possono vincere anche quest'anno è per questo che bisogna affrontarli con grande lucidità con grande voglia e fare una grandissima partita un attimo una parentesi su Allegri Allegri ha ricordato oggi la tua rabbia il tuo sfogo quando ti ha detto che non saresti non sarei stato in tribuna in occasione dell'ultimo derby tu da giocatore e se ha un vantaggio in qualche senso per te aver avuto Allegri come allenatore adesso che devi preparare la partita e chiudo con la Juventus una alla volta se no non mi ricordo dopo io penso che io ho avuto Max Allegri per me è stato prima di tutto un ex compagno mi ha sempre trattato veramente ero un ragazzino avevo 16 anni lui era il mio capitano a Perugia e mi ha trattato veramente come come un giocatore di 22-23 anni perché mi ha sempre rispettato quando avevo difficoltà ci ha tolto prendevano dei premi mi ha sempre dato i premi a un ragazzino di 16 anni era difficile a quei tempi mi ha sempre trattato come un giocatore vero e io questo non l'ho mai dimenticato dopo da allenatore anche su di noi si sono state dette tantissime cose io devo ringraziarlo perché dopo quando quando si è stato un buon giocatore quando hai scritto pagine importanti in una società come io ho fatto in quel periodo con il Milan io venivo da un infortunio venivo da crociato e per un anno un anno e mezzo quando giocavo arrancavo non ero non ero me stesso però dentro di me le persone che mi circondavano le persone che mi stavano vicino i familiari gli amici dopo quando ti dicono ti cominciano a dire ma hai visto quello non ti fai giocare però dopo non ti rendi conto perché dopo mi sono andato a vedere quando sono stato male quando prima di recuperare al 100% che non ero il giocatore che ero che ero prima perché arrancavo zoppicavo stringevo i denti ma non ero il giocatore che tutti avevano conosciuto e Max aveva ragione siamo chiariti io ho chiesto scusa perché dopo nella vita quando uno sbaglia deve chiedere scusa se una persona è umile chiede scusa e adesso da oggi da due tre anni a questa parte c'è un grandissimo rapporto rapporto ci sentiamo spesso parliamo di calcio quando vedo qualcosa di nuovo oppure lui quando deve chiedere qualcosa c'è grande c'è grande amicizia e grande rispetto e ringrazio per tutto quello che ha fatto dopo l'ho lasciato in via perché era finito un'epoca perché è vero che è stato il primo che mi ha chiesto se poteva rimanere il suo staff c'è tante storie però c'è una grande stima e a lui gli invidio la bravura perché vedere un allenatore in questi mesi quando vai a studiare io non ci capisci nulla perché questa a fine a fine dei 45 minuti cambia fa una partita con la difesa a tre dopo si mette 4-3-3 4-2-3-1 questo vuol dire che ha grande conoscenza ha un grande staff è vero ha grandi giocatori però ha migliorato tanto è diventato veramente un grandissimo allenatore a proposito di non ci capisci nulla può anche essere che domani e voglio sapere quali sarebbero i problemi per il Milan può darsi che metta anche di Balla Mangio Douglas Costa e Iguain tutti insieme cosa cambierebbe per la tua preparazione non cambia nulla perché come ho detto già prima abbiamo preparato due o tre soluzioni nel senso se gioca 4-3-3 4-2-3-1 sicuramente non giocherà quei tre difensori pensiamo così ma non in questo momento non dobbiamo pensare solo a fare bene le cose che abbiamo preparato dopo la qualità loro la sappiamo tutti è indiscutibile anche 4-2-3-1 ci avranno ci hanno due giocatori in più a livello offensivo con 4-3-1 sicuramente si possono prendere meglio però vediamo vediamo domani Resport buongiorno mister innanzitutto come ricordava il collega il Milan mercoledì c'è anche un derby però la Juventus 24 ore prima avrà una partita per la propria stagione fondamentale che è quella secondo te noi pensiamo alla partita del derby potrebbe essere un vantaggio ti chiedo se potrebbe essere un vantaggio avete pensato che la Juve possa essere distratta da quello che è diventata un'ossessione come la Champions la Juve negli ultimi anni è una macchina da guerra pensa se può può fare i calcoli non fa nessun calcolo sono abituati dopo quando tu per tanti anni quando acquisisci una mentalità vincente quando per tantissimi anni arrivi due volte in finale di Champions e vinci lo Scudetto e vinci Coppa Italia pensa se questa è una squadra che ormai va a una grande mentalità non hanno paura di niente sono pronti in qualsiasi momento perché vincere ti aiuta a vincere penso che in questo momento la Juve la priorità di domani è giocare contro il Milan dopo la partita di Corriere al Madrid quando arriverà l'affronteranno e ci penseranno quando la devono affrontare la davanti potresti una domanda a testa se no 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 solo una domanda a testa ti chiedo scusa altrimenti non finiamo non finiamo più per correttezza verso tutti gli altri ti ringrazio passiamo dietro a Radio Milanita sì ciao Rino hai detto dei titoli delle dichiarazioni che non non ti hanno fatto piacere mentre credo che ti abbiano riempito d'orgoglio delle dichiarazioni di grande dedizione comunque dei tuoi giocatori nei tuoi confronti e la grande concentrazione anche che sembra che abbiano per la partita di domani tu hai detto che indipendentemente dalle rapporti di forza faremo una grande partita no io spero che faremo una grande partita e lo penso che faremo una grande partita non sono sicuro perché di sicuro c'è solo una cosa è inutile ricordarla adesso penso che la cosa più io ho letto quello che hanno detto i miei giocatori perché dopo devo dire che chi lavora al Milan come Riccardo come Laura come Nicola mi portano alla segna stampa e vedo dopo siamo andati a leggere quello che hanno detto i ragazzi perché se uno legge solo i titoli se legge il titolo dice il Milan è diventata una squadra presuntuosa i giocatori del Milan sono diventati presuntuosi perché ripeto invece è vero che hanno parlato bene ci andiamo bene preferiamo il nostro sogno è poter fare una bella partita vincere però dopo i titoli qualcosa di sbagliato c'è sui titoli però io so di allenare una squadra che in questo momento sta bene solo di allenare una squadra che all'interno dello spogliettore stanno bene si allenano bene c'è stato il problema di Karnic ma l'abbiamo risolto perché si è presentato un giorno prima dalla nazionale lunedì si è allenato da solo ho detto che non portavo ancora ma perché lo penso veramente non perché devo far credere alla stampa perché qua va tutto bene e in questo momento stiamo stiamo costruendo un qualcosa di importante è normale che adesso dobbiamo passare dai risultati dalle prestazioni avremo due partite importanti la prima sarà domani con la Juventus e speriamo di fare la nostra figura passiamo a Federico Masini tutto sport ciao Rino due cose su dei giocatori domanda banale come trovato Bonucci in questi giorni visto che per lui sarà una partita particolare e su Donna Ruma te non c'eri l'anno scorso era stata una partita particolare per Donna Ruma l'anno scorso anche un posto un po' acceso come l'hai visti? l'ho visti bene è normale che l'ho visti per dieci giorni non sono stati con noi non sono stati con me dopo è normale che dopo tantissimi anni di vittorie è la prima volta che Leo torna a Torino ed è normale che prova un po' di emozione però l'ho visto sereno l'ho visto sempre con con la sua voglia è molto concentrato e di Gigi penso che quello che è successo l'anno scorso bisogna metterlo da parte quello fa parte del passato adesso affronteremo domani affronteremo ma è un'altra partita e non dove pensare a quello che si è successo l'anno scorso Milan News Azzar Ciao Rino non più tardi di due giorni fa Mirabelli ci ha detto che dentro l'uovo di Pasqua ci sarà il tuo rinnovo di contratto sei pronto a romperlo l'uovo? E quando lo romperai? Quando ve lo dirà la società con un Twitter con qualcosa quando firmerò sto ma fate passare sto cazzo di contratto che veramente non se ne può più oggi la mia priorità più grande ripeto è la Juventus è l'Inter sono le altre otto partite la finale di Coppa Italia voi mi dite tu sei un pazzo no sono fatto così oggi non è la mia priorità se ne sta parlando troppo io preferisco che si parla troppo si deve parlare dei dei giocatori che stanno facendo bene che siamo una squadra in crescita che siamo una squadra che in questo momento dobbiamo stiamo ci stiamo giocando qualcosa di importante invece sento sempre parlare del mio contratto si arriverà se lo vogliono tanto bisogna farli in due il contratto non è che lo possono fare da solo o io da solo o loro da solo si deve fare in due ma penso che non ci sarà nessun problema ok passiamo dietro a Stefano Scacchi della Repubblica buongiorno mister no se ha avuto modo di parlare con Andrea Conti se sa qualcosa perché insomma è sempre brutto un po' quando poi si complica nel recupero dei giocatori prima ho fatto un esempio no e volevo dopo riattaccare volevo riattaccarmi a quell'esempio che stavo facendo su Max che veniva dall'infortunio che mi rompeva le squadre mi faceva vedere i video che zoppicavo che ancora non ero pronto e con Andrea in questi mesi ci sono state tante confronti con me con i dottori con il mio staff ed è un ragazzo che ha una voglia incredibile una voglia incredibile tante volte la voglia quando subisce un infortunio così grave bisogna metterlo la voglia bisogna mettere da parte devi sentire sensazioni e sicuramente siamo stati bravi a gestirlo bene però non siamo stati abbastanza bravi è forse la colpa più mia a non fargli andare un po' farlo andare un po' più tranquillo in questo momento si trova in America con me legati e non si sa ancora se dovrà fare un piccolo intervento o un nuovo intervento non si sa non lo sappiamo lo sapremo in queste stasera o entro domani però questo ci deve far capire che in questo momento noi dobbiamo stare vicino al ragazzo perché è un patrimonio della società è un patrimonio dello spogliatoio perché è un ragazzo che si è fatto voler bene dal primo giorno da quando sono io ho un rapporto con tutti i ragazzi in un modo incredibile e non dobbiamo metterlo in condizione di farlo recuperare al 100% e vedremo cosa ci dirà il dottore in queste ore qua però mi siamo vicino e da parte mia da parte del Mino da parte dei suoi compagni ci sarà grande grandissima apertura e sempre a disposizione nei suoi confronti possiamo per favore il microfono qui davanti Arianna a corrida la sera ciao io volevo capire su che cosa hai puntato di più in questi pochi giorni di allenamento con tutta la squadra cioè se hai puntato cosa serve domani di più personalità gamba voglia tutto ci vuole tutto e quando ci abbiamo palla dobbiamo sapere giocare non aver paura avere coraggio di giocare dopo quando loro ribaltano l'azione hanno gente veloce coprire bene il campo stare là fare tutte e due le transizioni nel miglior modo possibile perché bisogna fare una partita giocare una grande partita su tutte e due le fasi perché se pensiamo solo a difenderci non ne usciamo con le osse rotte invece se riusciamo a giocare da squadra e fare tutte e due le fasi in modo corretto secondo me si può fare una buona partita perché loro tante volte se giocano da provinciale hanno l'umiltà questo vuol dire squadra umile squadra di quello che sa quello che deve fare non regalano mai nessun uomo stanno sempre alla compatti chiudono tutte le linee di passaggio dopo quando ripartono fanno paura allora per questo che quando dico che bisogna giocare bisogna fare tutte e due le fasi in modo corretto non dico una bugia ciao mister buona giornata volevo chiederti questo se la Juventus è una macchina da guerra e comunque di qualità assoluta ma se dovessi togliere un solo giocatore alla Juventus uno solo chi toglieresti? in questo momento in questo momento collettivo perché è una squadra che perché è facile dire di bala i guaini ce n'ha tanti costa c'ha tutti è una squadra se non sbaglio ma non sbaglio sono dieci partiti che non prende gol capite che è una squadra che è messa bene in campo incredibile c'ha grande mentalità è collettivo che mi fa paura una squadra che loro danno la sensazione dante volte di che non sudano nemmeno loro non sudano ti danno quella sensazione che non sudano puoi stare là una giornata che gli fai il sollettico e questa è la cosa che mi piace di più perché è una squadra la classica squadra italiana una squadra che che quando si difende si difende veramente con grandissimo ordine dopo quando riparte viene fuori tutta la loro qualità ma è una squadra che sa quello che deve fare una squadra con una mentalità incredibile che mi piace molto prego Ciao Rino tornando un attimo su Kalinic volevo sapere come l'hai visto e se soprattutto se hai visto quella reazione che tu ti aspettavi dopo l'esclusione con il Chievo lo dimostra il fatto che è venuto anche il giorno un giorno prima lunedì la squadra era di riposo lui è venuto si è allenato da solo con c'ero anch'io con 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 il mio preparatore ma guarda Nicola Nicola è sempre stato quando Mirabelli dice che Nicola io lo stimo molto e non dice una bugia non dice una stronzata dice la verità perché è un giocatore che in questo momento ci può dare ci può dare ancora tanto è un giocatore importante e da parte mia come tutti gli altri miei giocatori da parte mia c'è la consapevolezza di tirare fuori il massimo quel momento là l'ho visto non contento non si è allenato in modo corretto siccome ripeto devo c'ho 25-26 giocatori la regola è uguale per tutti è dovuto fare una scelta così ma dal giorno dopo è stata senza rancore è stato un altro giorno ed è successo questo ho visto un giocatore che ha capito e si è messo a disposizione Fabio ciao Rino speri un risultato particolare del Napoli speri che vinca speri che perda sarebbe meglio visto che gioca prima no spero nulla spero che forse do un'occhiata alle squadre che noi ci stiamo giocando un qualcosa perché in questo momento noi con Napoli non ci stiamo giocando nulla ma dopo come ho detto già prima la Juve non c'ha bisogno di vedere quello che fa in Napoli o quello che la Juve già sa la Juve è una macchina perfetta una grande mentalità su questo oggi ho ripetuto 100 volte di mentalità però è la cosa che mi piace di più perché si tocca con mano e se devo vedere qualche risultato vado a vedere i risultati delle altre squadre che stiamo giocando un qualcosa con loro non dico che tu e Matri siete stati due cioè lui è giocatore tu sei stato un giocatore magari simili però comunque ci sono delle simitudini tra te quello che è stato te e quello che lui è un giocatore che ti incuriosisce più degli altri sì anche se in questo momento tante volte quando vedo da quando faccio questo mestiere mi incuriosiscono i giocatori che sanno fare tutte e due le fasi non solo io quando mi rivedo non è che mi piaccio tanto da quando faccio questo mestiere perché che calcio è cambiato anche secondo me Matri sa fare anche non solo la fase di contenimento ma sa anche tante volte inserirsi che io negli ultimi anni l'avevo migliorata ma non è che mi si arrivo così tanto mi piaceva sempre stare a protezione della difesa è un giocatore completo dopo se non sbaglio 3-4-5 gol la stagione li fa sempre io il massimo che ho fatto fa 3 gol era un anno di Serie A ma mi piace ma è un giocatore secondo me un po' diverso da me non è che ci assomigliamo tantissimo ero più un cagnaccio ero uno che conquistava più palloni di lui lui sicuramente ha più inserimento ha qualche gol più di me è un giocatore che mi è sempre piaciuto mi sono chiesto anche tantissime volte come mai una squadra come il Paris Saint Germain con un giocatore così forte atleticamente e anche atleticamente l'ha lasciato partire ed è stato sicuramente un buon acquisto per la Juventus e per il nostro campionato no ma perché il calcio è cambiato negli ultimi anni perché in questo momento sicuramente quando mi chiedevano di fare la mezzare era una mezzare diversa perché sicuramente facevo andare più sedo quando c'avevo Cafu facevo il terzino perché Cafu non si fermava mai io facevo il terzino capisci che ti voglio dire perché se non mi fermavo io e abbiamo l'imbarcata per questo non è che perché volevo fare qualche inserimento di più non è che mi butto giù perché sapevo perché io penso che la io penso che la la qualità tante volte di un giocatore intelligente un giocatore capisce quali sono i suoi limiti quella è una forza per i giocatori quando vedi un giocatore presuntuoso che pensa di saper fare tutto e dopo vai a toccare con mano e vai a analizzare che non porta a casa nulla è difficile dopo fargli capire che è presuntuoso allora pensa quando becchi un ragazzo un calciatore umile che ha voglia ascoltare fa le cose per bene ti dà una mano mette un buco dove devi mettere il buco tutto più facile no? ultime due domande Vincenzo Matrone e poi passiamo ultime tre va bene qui davanti mister sarà sicuramente una casualità ma prima di cicli importanti come quelli di Roma escano fuori sempre notizie su questo Milan in difficoltà giocatori che vanno via tu in Inghilterra volevo sapere se nello spogliatoio un pochino i tifosi un po' sono torbati se nello spogliatoio un pochino vi torbano dietro di voi oggi c'è il dottore c'è il dottor Brozzi vi girate vedete che c'è il dottor Brozzi io sono andato da stamattina sono andato da fisioterapisti sono andato dai magazzinieri sono andato da chi lavora dietro la squadra ho detto che non volevo sentire nessuna parola ma nessuna parola su 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 conti nessuna parola il problema di che è la colpa di non è che è la colpa noi dobbiamo preparare una partita le stesse cose quando sento queste robe qua quando sento qualcuno quando vedo un giocatore con la faccia un po' triste vado a chiedere cosa c'è dopo quando parli la stessa lingua quando fai toccare con mano che tante cose non sono vere oppure tante cose possono essere anche vere ma abbiamo un obiettivo oggi perché abbiamo un obiettivo quando si perde un po' di tempo quando tante cose le stoppi subito non te ne accorgi penso che tante volte quando sto quando vengo un'ora prima due ore prima mentre le 10 vengo alle 7 e mezza è per questo motivo qua perché voglio beccare subito almeno interrompiamo subito la catena capisci passiamo davanti a Nobilini ciao Rino hai detto spesso e volentieri che fosse una casualità a vedere 11 elementi più volte ripetuti nella stessa formazione iniziale contro il Chievo sono mancati Calabria e Romagnoli e a conti fatti vedendo anche il risultato magari o qualche situazione difensiva la loro assenza è pesata ritrovarli cosa significa per il Milano in questo momento? no ma perché perché la loro assenza anche quando gioca quando gioca Calabria quando giocano gli altri commettiamo degli errori dopo tante volte ti dice bene non prendi gol ma in questo momento noi abbiamo bisogno di tutti i giocatori dopo è normale che se andiamo a vedere che a livello difensivo i meccanismi con Calabria invece di Borini vengono meglio il suo ruolo Borini è adattato a quello ma davvero c'è gente come Borini oppure Musacchio Zappata in questo momento bisogna farsi trovare pronti io ringrazio i ragazzi per quello che mi hanno dato contro il Chievo ma già si sapeva che a quel Chievo dovevamo fare fatica perché col Chievo in giro palla andavamo dopo l'1-0 ci siamo addormentati perché andavamo a 1 all'ora è anche vero che abbiamo preso due tiri in porta e due gol e non mi piace dare le colpe perché abbiamo preso due gol perché mancavano due elementi importanti della difesa abbiamo preso due gol perché a tratti siamo stati siamo stati lenti siamo stati un po' svogliati e penso che la colpa è di tutti quando si prende nei gol perché mancava Romagnoli o Calabria Longo alla luce delle ultime partite due gol decisivi anche degli ultimi giorni che ho avuto modo di vederli in allenamento Andre Silva lo sto mettendo in difficoltà nelle scelte anche magari per domani sì ma come mi mette in difficoltà Andre Silva mi mette in difficoltà Cutrone mi mette in difficoltà Kalinic in questo momento è difficile specialmente quando giochiamo col 4-3-3 sicuramente quando giochi con due linee da 4 e due attaccanti ce ne hai tre e due li fai giocare però in questo momento vediamo domani decideremo chi far scendere in campo però l'importante è che loro mi mettono in difficoltà loro mi devono mettere in difficoltà hai ragione quando dice che ultimamente mi stanno mettendo tutte e tre in difficoltà è vero c'è stata la parentesi di Kalinic di due settimane fa ma quella è una roba vecchia e bisogna bisogna guardare avanti grazie a tutti grazie